Ciao ragazzi bentornati in questo unissimo video, io sono Cecchinato e oggi siamo qui in un nuovissimo video per parlare ovviamente di nuove news di Fortnite, parleremo ragazzi in particolare di un piccone che potranno ottenere solo alcuni utenti di una determinata piattaforma che è la Switch e poi ovviamente parleremo anche di altre novità che sono arrivate, infatti è arrivata anche la nuova modalità diciamo dedicata a Rocket League, un po' diciamo in collaborazione, infatti anche nei negozi oggetti tutte queste auto ragazzi che usciranno nel shop potrete anche averle su Rocket League, quindi la modalità poi è molto molto carina io l'ho già provata, vi ricordo tra le altre cose che potete ottenere una skin gratis e un all backpack credo sia questo oppure un'auto, non ne ho idea, lo vedrò quando insomma lo riscatterò e fatto sta che è veramente molto carina, fatemi sapere cosa ne pensate, però detto questo andiamo ai delle news direi che possiamo subito iniziare ragazzi con questa novità che vi mostro, che riguarda una modalità che molti di voi sicuramente non l'avranno giocata, altri sicuramente si, si parla della modalità il pavimento è lava, il terreno è lava insomma, che era una modalità che se non sbaglio era presente o inizio capitolo 2 mi sembra, se non dico una cavolata, o addirittura c'era già nella fine del capitolo 1 una modalità insomma dove piano piano la lava sale e insomma è veramente una modalità molto molto carina che poi non è più uscita, non si sa per quale motivo non l'hanno fatta più uscire ma in realtà tantissime modalità poi non sono ritornate del capitolo 1 e sembrerebbe che sia stata rinominata con Mida presenta il terreno e lava quindi probabilmente ci sarà il ritorno insomma di questa modalità con protagonista sembrerebbe esserci Mida quindi vedremo, probabilmente ci sarà una sorta di ritorno sicuramente non sarà proprio uguale alla mappa, cambierà ovviamente fatto sta che per chi non lo sapesse si parte comunque bene o male così quindi la mappa sarà così e poi piano piano salirà tutta la lava parliamo poi anche di un pacchetto PlayStation Plus che arriverà disponibile a breve quindi se avete già acquistato il PlayStation Plus otterrete il 13 dicembre in teoria questo bundle qui quindi manca poco se fate poi il PlayStation Plus poi ovviamente potrete ottenere tutte le ricompense che non è solo una skin, ci sarà sicuramente anche qualche altro oggetto come il backpack e magari un emotico, una roba insomma del genere quindi potrete ottenere il 13 parlando poi ragazzi invece del piccone che vi mostra innanzitutto il bundle questa è chiaramente la skin che sicuramente avrete già tutti ottenuto per chi non l'ha ancora sbloccata basta collegare l'account Epic Games a quello Lego quindi creato un account Lego collegatolo poi su Epic Games e otterrete la skin ok? e ovviamente anche il backpack però il piccone ragazzi attenzione perché non l'hanno regalato questo perché lo regaleranno ragazzi ai utenti della Switch infatti nei file di gioco il piccone ha il tag Nintendo e quindi sarà una specie di esclusiva solo per quella piattaforma quindi non è ancora arrivato se non erro dovrà arrivare in futuro fatto sta che per i giocatori che avete insomma la Nintendo Switch basterà accedere in teoria al vostro account di Fortnite e vi verrà regalato automaticamente questo piccone se siete invece come me che non avete una Nintendo Switch ma avete solo PC, vari console insomma eccetera che non siano una Nintendo Switch purtroppo questo piccone in teoria non sarà insomma neanche acquistabile nello shop quindi lo potrete ottenere solo in quella maniera lì detto questo fatemi anche sapere come vi state trovando nelle nuove modalità sia Lego che quelle ovviamente di Corsa insomma in collaborazione con Rocket League e devo dire che tra le altre cose i dati sono anche assurdi perché ci sono veramente un sacco di giocatori una curiosità interessante è anche il fatto che ci sono si è raggiunto anzi il picco di giocatori maggiore, ancora di più ragazzi pensate un po' di quello della Fortnite OG quindi della stagione OG quindi una cosa veramente assurda se guardate infatti le statistiche ci sono un milione di giocatori e passa su Lego 278.000 attualmente sulla modalità di Corsa insomma hanno fatto veramente un bel lavoro fatemi sapere se vi stanno piacendo noi ci salutiamo fatemi anche sapere se volete video sulla nuova modalità Lego se volete facciamo un villaggio insieme eccetera detto questo però noi ci salutiamo e ci vediamo sicuramente in un prossimo video bello